Poi facciamo un applauso ai bambini, bambini ma come siete belli, tutti bellissimi i nostri bambini e poi facciamo un applauso al pubblico, a voi stessi che siete presenti qui e che svolgete il difficile ruolo di genitori. Finalmente in presenza, seppur distanziati e osservando tutte le misure anti-covid, bambini felici e sorridenti, genitori orgogliosi e con gli occhi lucidi, un ritrovarsi necessario e indispensabile con al centro la scuola e la sua funzione essenziale per la crescita delle nuove generazioni. Festa di fine anno alla Giovanni XXIII di Sernia e tempo di bilanci per il dirigente scolastico Bruno Caccioppoli. Questa è un'idea che noi stavamo già inseguendo e che stavamo già concretizzando. Infatti noi abbiamo già realizzato tre corsi per i bambini della scuola primaria che hanno fatto del potenziamento recuperando le cose che non erano state fatte in DAD e poi naturalmente abbiamo attivato anche un PON sportivo che sta già funzionando per 45 bambini della scuola primaria e tra qualche giorno partiremo con altri PON affidati, con altri progetti affidati ad associazioni del territorio, del terzo settore, così come prevede la legge. Nella piazza della chiesa di San Lazzaro l'esibizione dei piccoli fanciulli grazie all'ottimo lavoro svolto dal personale docente. State zitti che sta per cominciare Un motivo c'è e ci farà ballare Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!